Ciao a tutti ragazzi e bentornati su DarkFullyChannel con un nuovo video su CountryStrike Global Offensive e oggi sono qui per continuare la sfida 1 contro 1 e siamo contro appunto Artorias la sfida di oggi è abbastanza insolita perché signor Artor ci ha sfidato col PPZone arma che io odio ma lui la usa sempre in competitive, vero Artor? Quale is? comunque vi ricordo di sfidarmi qui sotto in descrizione scrivendovi il vostro nome di Steam e l'arma con la quale mi volete sfidare adesso aspettiamo che si carica la partita e a dopo ok ragazzi eccoci qui, allora siccome i primi round dato che ho messo in modalità competitive la map aim non possiamo comprare i PP Bison, i primi 2 o 3 round li faremo di pistola dipende dai soldi che abbiamo e gli altri round appunto li faremo col PPZone quindi Artor hai scelto la Deagle come primo round pistola con la mappa è quadrata, abbastanza semplice, c'è questo cubo al centro e vediamo adesso chi vince, però non ho mai perso una sfida sarà oggi il giorno in quale mi batteranno? Non ne ho idea Artor tu ci sei vero? Certo Signor Artor? Dove sei nascosto? O dietro? O dietro, dove? No no, 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 serio la mappa è piccola dove cavolo ti sei nascosto? Ma io ti ho visto, eh, si è scomparso a quel punto lì Mmm, io non ti vedo Mamma mamma, Arto, fatti vedere Arto, dov'è la testa? Dov'è? Però aspetta, forse già abbiamo i soldi per... quanti soldi hai tu? Io 3.400 1.000... eh, però senza che vera Eh, senza che vera, nessuno hai due te lo prende Quindi vabbè, possiamo già iniziare il pp-za, pp-bison new match Arma abbastanza difficoltosa, lontano, solo che Arto fa solo headshot con quest'arma a caso Esperto, vero? Bergamaschi sanno usare soltanto quest'arma Eccolo, manco il tempo, già mi sono tolto vita da solo Comunque nessuno dei due ha mai fatto questa mappa Ma vedi, mi ha fatto headshot, 97 in 2 e io 77 in 4 Arto, in base a cosa? Basi al magheggio Vabbè, mai Kevlar, Arto No, mai, così ci moriamo più facilmente Cioè dai, ma 4 colpi, 77, tu 2 colpi e mi hai fatto headshot Ma non è legit Comunque si può usare anche il coltello La pistola no Ci dobbiamo vendicare ragazzi Non possiamo perdere contro Arto... 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 Non mi ha preso neanche con un colpo stavolta Scars, scars E' eliminato la squadra dei terroristi in 6 secondi Ok, solo ce li dovreste avere Tanto una kill di Bison ti da 1.6 se non sbaglio O 1.000 O 600 Quanto da una kill di Bison? Lo dici la console, no Mmm... Vabbè, da parecchio Comunque adesso te l'ho fatto io, 97 in 2 Arto... 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 Vai sempre... No, 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 no Ma come ci sei arrivato già lì? No, 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 atto... Eh, salto in te l'ho tagliato Ma... ma sa cosa sei arrivato lì? Io ero ancora sotto Comunque ragazzi, dato che è in modalità competitive Il round da vincere saranno 16 Se pareggiamo Cosa che penso sia impossibile Dovremmo fare un'altra partita più avanti Con qualche altra arma Solo che non lo farò pareggiare Perché broccoli è un'area scasso Anche nel VV Vabbò, allora Eccolo Non so se in questa mappa si possa fare wallbang No, i colpi non passano Ok, abbiamo facciato ancora quanto gli abbiamo tolto Mi ha tolto 27 in 1 prima Adesso non mi ha tolto niente No, gli abbiamo fatto 121 in 3 Ok, allora 4 a 1 Il signor Arto si è mutato Come back is real Ok, no, c'è Non reggi quittare, ti prego Come back is Artosia Vabbè, tanto sono 4 round L'altra volta stavo vincendo 7 a 1 E poi il vendicatore mi ha fatto 7 a 7 E se ce la può fare il vendicatore Ce la puoi fare anche tu Ti sento passi dappertutto Eccolo Eccolo Porco Allora il primo grande è stato fortuna Oppure mi stai facendo vincere apposta E poi mi distruggi Perché abbiamo messo in palio il mio carambit Quindi se vinci si prende il mio carambit Se perdo Mi dai il suo cortello a farfalla, vero? No, carambit Perché non ce l'ho Quindi Ah, ok, è a posto Quindi vinci solo tu Ok, allora Ce la possiamo fare 5 a 1 Abbiamo un'altra Undicina di round A vincere Questa kill ha a caso, proprio Stavo correndo indietro Un solo colpo Ti ha tagliato la testa I bison è un'arma abbastanza OP Certo, è arma da nabbi Da nabbi, vero Artos? No Sì, sì È da nabbi Quando si perde in competitive È il must have da avere Comunque è statrack Ci ho fatto solo 239 kill Le sto facendo a destra le kill E non so statrack E farlo aumentare E sono diversi Sta mappa Forse è buona Anche per fare la WP Dato che non ci sono tantissimi Dov'è lo Swift? Ecco Tento lo Swift per sparare No, no, no No, 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 no Madono Che cuno 4 HP mi hai lasciato Io non riuscivo a beccarti Perché non ti vedevo Sono anche morto da solo Va bene Forse mi hanno tolto anche l'uccisione Allora Compriamoci bison Quanti soldi hai Da dove stai prendendo ogni round 10.600 Allora non è un problema Se vuoi tu ti puoi prendere il kevlar Se proprio vuoi Dove cavolo è? Era accanto a te Non mi hai visto? No Che sfidalezza proprio Solo tu potevi scegliere quest'arma Mi piace Mi piace Comunque Avevi il kevlar prima? O no? No Ho prenditolo adesso Sono troppo easy Poi non è che sia un rank così alto rispetto a me Lui è a K A K Quindi per questo sta perdendo Giusto? Oh Arto Dove sei? Dove cavolo è? Ma che? Eh 178 in 3 Troppo mi è staccato la testa Che brutto bison Stampo di bambù Popo Africa is back again 241 kill Dai Forse con questa sfida Riesciamo ad arrivare a 1000 Allora 8 a 2 Devo vincere altri 8 round Non se ne ho sbagli Dato che modalità competitive Va al A quando? Non me lo ricordo Dovrebbero sbricciare Dai No ti ho visto alla fine Come hai fatto a sentirmi? Stavo shiftando Passi Sì vabbè i passi C'hai il wall luck E io no Wall luck immaginario Oddio 8 a 3 Basta Non ti faccio vincere più round Adesso ti distruggo Vado in un punto dove Non sono mai andato Non lo so dov'è Non mi sto accamperato Allo spawn Finchè non mi trovi O quasi Ho già visto Io no Ho sentito solo gli spari Ma che Ma dai pensavo fossi La sotto Broccolo Lesnar Broccolo Lesnar No seriamente Pensavo passassi dalla sotto Invece di passata sotto la torre Tutta tecnica Tutta tecnica 8 a 4 Nelle competitive A che round si switcha? Ah all'8 a 7 Ok Quindi al Quindicesimo round Super giù Ok dai Troppi round persi L'ho detto che mi cambia i cavi Swiffer Dai Dai Non ti faccio con un colpo Da quanti round che mi stai prendendo? 4 Da 4 di fila Mi stai ammazzando solo tu Solo tu Vabbè ma è tutta una tecnica E per incoraggiarti Poi Più ci muori Sì 8 a 5 Sto rischiando di Farmi recuperare Non va bene come cosa Poi la sfida Cioè non serve mira Per il bison Infatti non serve mira Lui si muove E abbiamo Io ho 26 in 2 E tu con un colpo in più Mi metto 823 Cos'hai I trucchi nel bison Magicamente dove vanno i colpi Ah sì sì certo 8 a 6 Ultimo round E si switcha di lato Quel lato sarà quello sfigato E quindi perdo E vincere tu questa sfida Vabbè ma te l'ho fatti fare Tra posto a sti round Arto Cioè lo senti tu Come sempre Ma che cazzo No ti ho fatto ok 93 in 4 93 in 4 No Arto Hai più culo che anima E come tu primo Io ora adesso Sì sì Poi siamo pari Uccisioni Perché mi sono suicidato Seriamente Mi sono suicidato Ancora Sì Vabbè Era un dico L'unico che ho vinto All'inizio Ok Vabbè Tanto non cambia niente Allo sto lato Dovrebbe essere Quello all'altro Certo Più o meno Ok Tanto con la pistola Tu sei scarso Arto Arto No Oh no Tuittato 70 singoli Sono scarso Non c'ho i soldi Dobbiamo fare Un altro Land of Pistol Ho 1.5 Quindi anche tu devi prenderti la Deagle di nuovo No Se è 1.5 Poi prendi il T-Bison 1.4 Quanto costo? Troppo tardi Dobbiamo fare un altro Land of Pistol E' il problema Ah vero Questo è 1.4 Pensavo 1.6 E' che compro ormai con l'autobail Quindi non mi ricordo più i prezzi delle armi A meno di quelle che non uso mai Non senti i passi di alto Merda di mira Sì Hai visto che si rompe con la vetrata? Sì Figo Vabbè adesso possiamo comprare 8 a 9 Dobbiamo arrivare a 16 E questo Bison dopo questa partita lo butterò nella spazzatura Perché fa schifo Ora c'è l'osilide Con lo sticker Perché ce ne hai uno per lato? Certo Sei l'unico che ha Che domande Ok ecco dove era l'osilide Ti ho fatto a che 833 Ti ho fatto a gli stacca S Non togli niente Niente sotto sta arma di Dei puffi Dai 9 al 9 non si può vedere Atto Mi devi far vincere Che arma vuoi per farmi vincere? 1 Neanche il PP Bison Star Trek Antichità Guarda che Guarda che Guarda proprio fiero Anzi Bison e osilide Star Trek Nuovo di fabbrica Pure Anche souvenir No Ma ogni volta dove cavolo vai È impossibile che non ti trovi Arto Dove cavolo eri? Ti stavo facendo il giro da sotto Ma io ero sotto Era appena salito Stai seguendo Dai Perché non mi ha coltellato Ci stava Ti va Lo switch Io sto giocando Troppo tattico Quando in realtà Il Bison è un'arma da silver 1 Cioè tu Vai contro il nemico E lo ammazzi Quindi questa è la tattica Che attuerò Adesso Non ti lascerò Via Di scampo Ecco Basta L'arma di silver 1 Si usa così Non ci sono altri modi Per usarlo Basta Rush stile Artosia Su Dust2 In long No B Ah però Tu copri sempre B Vabbè 10 a 10 Si rischia di pareggiarla Questa partita Questa non è mai accaduta Se stavi glacciato Non ti vedevo Non ti ho preso con un colpo E tu mi hai fatto due HS O una E avevo un hit No 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 Artosia Non puoi vincere Si che posso Ma Tanto male Facciare una sfida di autosniper Ma no col Bison Artosia Non è legit Quindi con l'autosniper Puoi mirare Lo so Poi cambia Non è legit Sta sfida Io non lo uso mai Basta Oddio di nuovo Si è nascosto Lui si gira E mi colpisce Io Un caricatore Non ho tolto nulla 84 in 6 Mi ritiro Aspetta Disconnect Oddio 12 a 10 Non ho mai perso una sfida Mai Mi sto demoralizzando Magari è questa Ma Ma Conti posso togliere In 6 hit Quello che tu mi togli In 2 Ancora 72 in 2 E tu 114 in 4 Sempre di 2 hit Ti prendo Sempre 2 hit Oppure 78 Non ti posso Devo ricambi Eccarti Ora è persa Artosia Si sta Concentrando Per No Per mettere I wallach Dai ma Seriamente Ragazzi Se c'è un altro Che mi sfida Con un'arma del genere Lo banno dal canale Va bene 12 in 1 Non va bene Non va bene Per niente No va bene Benissimo Perfetto Non posso farti vincere Neanche un altro round C'è proprio Non posso Oggi vedremo Una sconfitta Di dark folle Artosia Ma sei del mio clan Non mi puoi far perdere Si che posso Sei una brutta persona Brutta brutta Se non ti ammazzavo Adesso che eri Di spalle Tu di girare Mi facevi gli istanti Io quittavo Ho già il comando pronto Per quittare Oddio 14 a 11 C'è basta che hai un colpo di culo E vinci la sfida Sembra normale come cosa Non hai colpo di culo Si certo Oh zio Ah sempre lì Finché funziona Ho vado lì 14 a 12 La tensione sale Artosia Ha sempre più paura Di perdere No Beh tanto perdi Artosia C'è scritto Nel contratto Vedremo Artosia Devi perdere Sì Cacchio Sì Control spray Control spray Ah ecco Peppy bison Si ride Però non è statrac Cioè che stile c'è Non farlo Stratto Che brutta cosa Dovevo comprare gli sticker La targhetta Nome per fare il bison Definitivo Bison definitivo 14 a 13 Satto Dove sarà Il delfino satto Ma che cazzo Ma da dove sei venuto Scusa se ho controllato Davanti non c'era Da quella parte lì Dove hai sparato te Ah dal vetro Gieri passato Sì Dai Shiftando Shiftando Infatti non te l'avevo sentito Assolutamente 15 a 13 Si rischia di pareggiarla Però Artos Non ce la fa Non ce la puoi fare Devo pareggiarla per forza Per forza Sto delfino satto Ciò parura Può essere ovunque Sì HHS HHS 15 a 14 Si pareggia O si perde Artos Secondo te Vai Si pareggia o si perde Artos Shish Giusto Voglio tipo shish No ragazzi Pregate per me Non posso Pareggiare contro Un broccolo Lesnar Un broccolo Lesnar Insieme c'è il suo gatto Chess Dark sta perdendo Non sa che cosa fare E non ti vede Non si sa perché Artos Dove cavolo sei? Ma si è campionato Il tuo spawn Nope Nope Eccolo No Mi hai fatto instant Mi hai fatto instant E ti ho tolto 54 in 4 E tu 113 in 2 Ah poi ragazzi La prima sfida Che si perde Tra tante Tante virgolette Vi ricordo di lasciare Tanti likes E commentozzi E di sfidarmi Qui sotto Nei commenti E ci becchiamo Le 17 Con un nuovo Video su minecraft Ciao 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 c'è Ciao c'è